Non ci siamo, credo che questo sarà il mio ultimo D-Landog Wabalabadabdab e bentornati su No Mamamazzo Bentornati nella rubrica in cui parlo di D-Landog Più precisamente nella rubrica dedicata all'Old Boy Al secolo maxi D-Landog che di recente da 7 numeri è stato ormai ufficialmente rinominato D-Landog Old Boy Tutto attaccato proprio per differenziarsi dalla serie regolare Che dovrebbe avere una continuity maggiore Dovrebbe essere post-meteora Dico sempre dovrebbe perché si sa che poi alla fine non è ancora così Dovrebbe avere delle storie di maggior pregio, di maggior rilievo Che sono tipicamente dilaniate Quindi che entrano di più in quella che potrebbe essere anche una critica sociale Un messaggio, qualcosa che va oltre il mero intrattenimento Questo Old Boy invece non si prefissa nulla di tutto ciò Si prefissa solamente di avere delle classiche storie Vecchio stile nella forma Si spera anche nel contenuto Ma purtroppo, questo è il caso di oggi, vediamo che non è così In cui vediamo un D-Landog incastonato quasi, cristallizzato nel tempo Come i fan dello zoccolo duro lo vorrebbero Che affronta bimestralmente le vicende che capitano attorno a lui Questo è il caso di due storie dal titolo Nulla che richiami all'estate Ma soprattutto la prima storia è particolarmente estiva È l'incubo delle persone che non amano andare in vacanza Come me, tra l'altro D-Land è un classico londinese di città È un classico dandy Si sa che non è un uomo d'azione Non è un uomo d'avventura E spesso si trova in questa strana posizione Perché frequenta delle ragazze Sempre molto diverse da lui E in questo è il caso più Uno dei casi più palesi In cui appunto si trova una ragazza Patita proprio del viaggio Patita dell'avventura Degli sport anche estremi all'aperto Che non c'entra assolutamente nulla con D-Land Si vede anche proprio a livello visivo Il contrasto tra come questa ragazza Sia impeccabilmente sul pezzo Per dove si trova Mentre D-Land è sempre vestito Con la giacca e la camicia Anche in montagna Un'idea carina di per sé A cui io però non avrei dato Per come è stata sviluppata Tutte queste pagine Cioè non avrei assolutamente dato 98 pagine, 94 pagine Quello che è per una storia così semplice Mi è piaciuto il pretesto dell'assurdo Del fatto che si trovano In provincia dove I segreti, le cose Sono diverse dalla città Dove ognuno si risolve I problemi alla propria maniera Non con la maniera di quelli di città Un concetto che è abbastanza velato In questo numero Che avrei preferito che Esponessero in modo più esplicito Ma che resta lì Un attimino in sordina Non decolla mai Si vedono alcune stranezze Che mi hanno ricordato Proprio ma molto Molto vagamente Le stranezze di Golconda Cioè stranezze che arrivano E non sono spiegate Anche se in Golconda Era palesemente voluto Questo Questo intento Qua Ti dà proprio l'idea Che molte cose Siano buttate lì E poi Non siano mai state chiuse Perché magari Dimenticate O perché magari Nonostante Secondo me la storia è troppo lunga Magari Mancassero delle pagine Per Chiudere un cerchio Che invece Ha lasciato così Lì in sospeso È forse Una delle storie Più brutte Di Dylan Dog Che io abbia mai letto A sensazione Specie perché È sconclusionata Un inizio troppo lungo Si portrà E fin troppo Sembra che ci sia Chissà quale Quale Nemico Quale Particolare Retroscena Sotto Questa Questa zona Di campagna Quando poi Invece Non c'è nulla di che Cioè c'è tutto E non c'è niente C'è C'è un vampiro C'è la nonnina Che butta i piragna Nel lago C'è questo ristoratore Che pare Usi carne Umana Ci sono degli zombie A casissimo Che mangiano Gente che fa jogging Sono tutti Tutte strizzate d'occhio Molto sclaviane Ma Eppurate Del Non so Del cuore Diciamo Che sclavi Metteva in queste cose Cioè Tutte queste scene Andrebbero benissimo Da sole Ma Unite tutte In un'unica storia Vanno a A perdersi E vanno a A perdere di quella forza Che le scene Da sole hanno Finale Palesemente Troncato Orrendo Orrendo Davvero Non credo Che prenderò Più altri All boy Ero già molto Titobante su questo Una cosa Che mi aveva spinto A prenderla Che è una cosa Che io di solito Non ci faccio Molto caso Era il fatto Che entrambe Le storie Una dietro L'altra L'unico motivo Che mi ha spinto A prendere Questo numero Era il fatto Che entrambe Le storie Scritte Da autori Diversi Erano state Disegnate Da montanari Grassani Quindi dagli stessi Disegnatori Quindi mi sarebbe Proprio piaciuto Vedere Lo stesso disegno Su storie Molto diverse Però devo dire Che tutto questo Tutta questa Sensazione Che cercavo di trovare È stata sovrastata Dal fatto che la prima storia Mi ha davvero Deluso E mi dispiace molto Perché vabbè Gabriella Contu Io l'ho già letta In altri numeri Che mi erano piaciuti Molto di più Se non sbaglio Sempre il primo Oldboy Se non ricordo male Ma soprattutto Sono molto preoccupato Dal fatto che Uno dei prossimi numeri Della serie regolare Uno dei tre Dedicati a Vasco Rossi Di cui poi Parleremo Parleremo anche di quello In un altro video Non in questo È scritto proprio Dalla Contu Non so se Alba Chiara O Jenny Comunque uno dei due Sarà scritto Dalla Contu E sono molto preoccupato Cioè spero proprio Che non ci sia Questo 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 tipo di storia Spero che magari Questa storia Sia stata Messa in secondo piano Per dare più risalto All'esperimento Vasco Diciamo Vabbè Nonostante questo Nonostante la prima storia Mi abbia davvero Rallentato Nel fare questo video Che da quel motivo Per cui esce Solo ora La seconda storia A cui ormai Non davo Neanche una lira Palesemente ispirata Ai racconti Di Edgar Allan Poe Che devo dire Non è che io sono Un erudito Che conosce Edgar Allan Poe L'ho conosciuto A scuola Come la maggior parte Delle persone Poi non è che sono andato A cercarmi delle storie Però io ricordo Che quello che leggevo Mi piaceva molto E qua effettivamente Io ho trovato Lo stile di Edgar Allan Poe Mi è piaciuto molto Questo tipo di straniamento Questo Dylan Dog Che si trova in un posto Senza ricordarsi Perché si trova lì Ma fondamentalmente Anche perché Non è importante Ai fini della storia Il motivo per cui è lì Tant'è che poi Viene spiegato Con un espediente Alla fine del fumetto E questo rende il tutto Ancora un po' più Un po' più paranormale Un po' più fantasy Aggiunge un tocco Di qualità Alla storia stessa Non la toglie Come nella prima storia La seconda storia È di Bruno Enna Dato che ho nominato La Conto Nomino anche Il secondo autore Ovviamente i disegnatori Come ho detto Sono sempre Montanare e Grassani Coadiuvati da Patrizia Mandanici O mandanici O mandanici Così Ogni tanto Cambio gli accenti a caso 50-50 Alla zecco Anche qui la storia È divisa in due parti Quasi pensavo che volessero Portare il messaggio Del viaggio dei migranti Quello che I migranti fanno Per venire in Italia In Europa Da paesi dove c'è la guerra Pensavo quasi che L'obiettivo di Mostrare un D-lang Clandestino Un D-lang Naufrago Fosse quello Invece poi Si cambia totalmente Registro Magari c'è anche Quel messaggio Ma poi si cambia Totalmente registro E si va ad affrontare Direttamente Tutte le peggiori Responsabilità Degli uomini Su ciò che c'è di male Nel mondo Scopriamo che Questa nave È una metafora Di tutto ciò Che di brutto Fanno gli uomini In questo mondo E la trasporta Questa nave Trasporta Tutte queste malvagità Dalle più gravi Alle più sottili Vediamo che A un certo punto Dylan Ha la possibilità Di passare In questi container In questi prodotti Che vengono trasportati Da questa nave E trova Di tutto Trova Dall'espianto illegale Degli organi Che è stata La prima La prima delle scene Che abbiamo visto Che ci ha fatto pensare Che magari Fosse quello Che voleva raccontare La storia Per poi vedere Che in ogni container C'è Un orrore nuovo Un orrore diverso Un orrore più grave Vediamo anche appunto Dei giocattoli Insanguinati Tra cui anche Giocattoli Tipo soldatini Quindi si presume Che sia Rappresenti un po' Magari La guerra Dove ci sono i bambini Quindi giocattoli sporchi Di sangue Dei bambini Che sono stati uccisi A causa della guerra Si presume È un pensiero Che ti viene Leggendo Queste Queste tavole Non c'è nulla Di esplicito Vi racconto Quello Che mi ha Dato Questo albo Poi vediamo Un Dylan Dog In orrore Molto più comuni Come i banchi Di scuola Che Come ho già detto In un altro numero Invece di sviluppare L'individualità La creatività Ma anche la comunità Per carità Del 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 bambino Lo incastonano In queste regole In questi orari In queste materie Che gli vengono Ficcate in testa Dove I bambini Gli esseri umani Vengono appiattiti Per essere Tutti uguali Quando Arriveranno Nella società E quindi Appiattisce Le creatività Individuali Non le esalta Non le porta In alto Lo vediamo passare Da Un container Pieno di gabbie Con tantissimi animali diversi Tutti maltrattati Si può Vedere Un animale maltrattato In generale Quello che può essere Maltrattato Per essere mostrato Alle persone Come gli animali Negli zoo O nei canili Lager Non mi riferisco Ai rifugi Dove gli animali Vengono trattati bene Ma quei canili Dove gli animali Vengono messi Non si sa nemmeno Se sopravviveranno Perché sono davvero In condizioni Orribili Ma anche solo Gli animali Che vengono Maltrattati Nella loro esistenza Al fine di essere Macellati E può valere Per i cani Dall'altra parte Del mondo Ma può valere Anche per Le mucche I maiali Le galline Da questo Lato del mondo Quindi Dove c'è Un Un essere vivente Un essere vivente Innocente Che viene trattato Come prodotto Forse Nella parte Sugli animali Questa metafora Che usano In questo numero È quella Più vicina Alla realtà Che mai Perché è proprio Qui che L'animale Che dovrebbe essere Appunto Vivo Viene trattato Come Merce Si passa Dallo scarico Di rifiuti Tossici Nel mare Nell'acqua A Delle vere Proprie Dei veri Propri Orrori Della guerra Quindi vediamo Delle persone Inginocchiate Con un soldato Che gli punta Una pistola Alla testa Traffico D'armi Torture Persone Che affogano Una vittima Per probabilmente Carpirgli Delle informazioni Fino ad arrivare Al container Finale Che è La casa Di Dylan E mi è piaciuto Molto Perché fondamentalmente Dylan Dog Parla di orrore Parla dell'orrore Del quotidiano Trasposto In maniera Fantasy Mi piace Che l'ultimo Container Di Dylan Dog Rappresenti Diciamo Una specie Di crocevia Di tutti Questi orrori Quotidiani Che vengono Appunto Narrati Dallo studio Dalla casa Di Dylan Dog Vediamo Che fuori Dalla casa Di Dylan Dog Fuori da Cram and Road 7 A Londra Tutta Londra Tutto il mondo Sta annegando È sott'acqua Sta urlando E Dylan Si rende conto Che le voci Che sentiva Quando era sulla barca Le voci di grida Che sentiva Quando era sulla barca Niente poco di meno Sono che le voci del mondo Le voci delle persone Là fuori Che stanno gridando Le voci Le grida Di persone Che normalmente Non sentiamo Che sono tutte quelle persone Che noi non vogliamo vedere Le persone che sono In questi container Sono tutti orrori Che noi conosciamo Ma che non vogliamo vedere Che noi Non approfondiamo Ma non perché siamo degli stronzi Ma perché comunque Se dovessimo approfondire Ogni tema sociale Di orrore Che c'è nel mondo Moriremmo noi Saremmo svuotati dentro Da tanto che è l'orrore Io mi potrei concentrare Per esempio A me piace molto Il tema Degli animali Del trattare bene Gli animali Potrei Addentrarmi In questo tema Potrei diventare Un attivista Ad opera Di questo tema Ma Non riuscirei mai A fare Sia Io personalmente Poi magari c'è chi riesce Io Non riuscirei mai A mettere le mani Nel sangue E nella merda Di questo argomento E anche Di altri argomenti Non riuscirei a trattare Anche In maniera approfondita I bambini Che vivono Dove c'è la guerra Le persone Che vengono Torturate Perché vivono In governi Dittatoriali All'altro capo del mondo E solo perché Vogliono vivere In modo libero Vengono uccisi O torturati Se Dovessi approfondire Ogni tema Con Equa Profondità Mi lacererebbe E È proprio per questo Che l'essere umano medio Non vuole vedere Questi orrori Perché non ce la fa Sostenerli Quanto meno Non tutti In questo caso Si sprecano Non Una mezza pagina Per concludere La storia In maniera Frettolosa E troncata Ma Un mucchiettino Di pagine così Per dare Alla storia Un senso Fantasy Che racchiuda Un po' Tutto il cerchio Dove ci spiega Che Dylan Dog Non è mai stato Su quella nave Ma era tutto Un viaggio suo Mentale Dopo che è caduto Nella piscina Di una villa Infestata Appartenuta Proprio Al comandante Di questa nave Che pare Trasportasse Un sacco Di merce Illegale Quindi Da una chiusura Narrativa A quello Che voleva essere Un messaggio Dilaniato Trascendentale Quindi che Trascendeva La storia Però Comunque La chiude Per chi ha Bisogno Di una chiusura Narrativa E ci spreca Due Tre Quattro Cinque Sei Pagine Per dare Un risvolto E questa cosa Mi è piaciuta Tantissimo Mi è dispiaciuto Questa seconda Storia Sarebbe stata Tranquillamente Secondo me Benissimo Nella serie Regolare Peccato Che l'abbiamo vista Nell'old boy Specie Vicino all'altra Perché davvero Non c'è paragone Non me ne voglia L'autrice Ma questa storia Non mi ha dato Quello che mi doveva dare Riconosco Che non tutte le storie Devono essere Cioè Ci sta Siamo nell'old boy Sono Numeri estivi La gente li legge Sotto l'ombrellone Ci sta Che non tutte le storie Devono essere Equalmente profonde Ci sta Che Non tutte le storie Devono per forza Trattare un tema Socialmente impegnato Perché se no Non è Dylan Dog Lo capisco Però ecco Diciamo che qua Il contrasto era fortino Qui Siamo leggermente Sotto la sufficienza A parer mio Al mio modesto parere Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Scrivetemelo qua sotto Io vi ripeto Per come La penso È il mio ultimo Old boy Se poi Quando uscirà il prossimo Old boy Voi Lo leggerete E mi dite Fabio Guarda che Questo old boy Di questo mese Merita Lo puoi recensire Allora lo faccio Altrimenti Basta Sono 690 bimestre Che risparmio Anche volentieri Come Fare a dirmi Se devo recensire I prossimi numeri Dell'old boy Scrivetemelo qua sotto Ogni mese Ogni bimestre Se c'è un numero Dell'old boy Che a voi piace Me lo scrivete qua sotto E io Gli darò una sfogliata E poi vediamo Grazie per avermi seguito Fino a qui Come sempre con l'inchino E con l'emuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Grazie a tutti